Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Sì, siamo arrivati nel castello di Royer, una casa elegante, di una persona rica e che... C***o, è il qu'è? Teleporta! C-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c! Teleporta per casa! Teleporta per casa! Vai in un hotel! Vai in un hotel! Ok, hotel! 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 Um... Oh... Ok... ... 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 se non è vero se non è vero i dirti off into my own shoes come on Oh, questo è spooko Oh, decode, decode, decode What, what, what? Decode Teleporta Why? I can't, it's not working Rishas, Rishas, è da me Rishas 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 Caralho Sta tutto bene Orge l'endel Let's teleportare tutti Hey, le telefoned Buongiorno, non c'era un codice, non c'era un codice, ma credo che hanno fatto alcuni cambiamenti. Tu sai quando tu mati un monstero e ti spavano un ghost? Ok. Quando tu vas l'appeler, ne sai pas, on va voir. Lapin su Minecraft, son tracon, il meurt souvent de chute. Salut mec! Ok. Grazie mille. Oh mio libro. Solo per partecipare della trend, eh? Quaggit paga, servidor, por favor. Quero salvar Richarlison. Se ele morrer per causa del lag, Voi matare a te, quaggit. Paga servidor, quaggit. Por favor. E' questo. E' te laraña? Te laraña o' te la chupo? Nesu. 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 run the project of this nature and I'm sorry if my voice is cracking a little bit it's just really really nice to to see this kind of thing normalized it means a lot to me it means a lot to me and I'm so proud to be a Latin American and I'm so proud to 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 be leading this change you know within the communities with a project so so pure and so nice like what QS&P is um and I'm going to blow you out of the sky so I'm going to give you one last warning and then I'm going to arm a missile okay oh my god bro okay I'm landing what? where? 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 we're at route 68 yeah um yeah we're on the way just stop the heli okay we're going to do our parachutes and then we're going to parachute okay I'm going to go high I don't have much we're getting shot we're getting shot we're actually there good job give us comment make sure so we know you're okay I don't have to go high 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 Grazie a tutti.